Tu il pulatello allora, se no, prima che il pulatello, comunque, scusate, come secondi direi un, come secondo, direi, consiglierei il santo cinghiale con cotto a micron del Vodafone. No, spiegherei la ricetta, se permette, spiegherei la ricetta, spiegherei la ricetta, per questo piatto prelibato si prende un santo cinghiale, che tutti quanti conosciamo, si prende un santo cinghiale cacciato esclusivamente il mercoledì, nei sacri posti del comune, lo si mette in padella, lo si lascia cucinare per cinque minuti sul davanzale della finestra del santo cinghiale, quindi pronto. Un franco! Un franco! Non sono io! Un franco! Un franco! Un servizio nuovo! Quello che hai regalato tua suocera! Senti, però potremmo fare oltre il proseguo qualcos'altro? E quindi, una volta posto il cinghiale sul davanzale e sale e petre, l'antenna Vodafone ha il resto. Quindi, aiuterà la cottura, il piedilismo, il sapore. Oltre alla cottura e può fare qualcosa... Oltre alla cottura e può fare qualcosa...